Torna a riunirsi questa sera alle 21 il Consiglio Comunale di Andorra. All'ordine del giorno una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio legati a spese legali e spese per servizi, modifica al regolamento per lo stazionamento dell'unità da diporto nel bacino turistico andorese e ancora la presa d'atto del nulla osta della Regione relativo all'adeguamento del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali e marittime e modifica al regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia. La seduta consigliare sarà conclusa da delle comunicazioni del sindaco Mauro De Michelis.